Ciao ragazzi, oggi è arrivato il pacco di campagna 16 a 4 volte che registro quindi niente non facciamoci caso che è meglio come avevo promesso ho tolto l'estation non farò vedere proprio la lunghezza come è nei capelli ma a me non piace quello stesso comunque iniziamo subito perché a momenti vengono i clienti a prendersi i prodotti allora mi è arrivata dell'agon in teoria una specie di foglio dove dice che non è arrivato l'anteprima quindi la devo guardare online poi mi sono arrivati i supplementi del catalogo di campagna 16 e 17 anteprima di campagna 1 da ordinare campagna 17 offerte di campagna 18 per noi 5 cataloghi di campagna 17 8 cataloghi di campagna 18 perché 8? perché 5 li ho presi io 30 ce li hanno mandati loro perché insomma perché si attiva da poco insomma in Avon loro vi regalano 3 cataloghi in ogni ordine dopo per la prossima campagna e qui ce n'è 8 un altro foglio che ti informiamo che all'interno di questo catalogo non troverai tutto per te relativo alle 9 di campagna 18 vabbè lo sappiamo questi sono i sacchetti quelli medi quindi quelli più un po' più grandi e quelli piccolini poi offerte di campagna 17 la fattura che tra l'altro tante cose non sono arrivate allora vi dico cosa ne è arrivato allora spediremo l'orologio da tavolo d'arte guallanti che se ne parla a febbraio l'Avon ombretto liquido poi le matite per gli occhi quella verde e quella nera che stavano 3 matite a 10,50 spediremo e la collana Vidalips che è esaurita poi abbiamo come esaurito il mici il cappello di topolino i guanti invece spediremo e esaurito l'omp disponibile degli slip e un bagno schiuma spediremo appena disponibile esaurito il reggiseno glamour reddy lace che in teoria era di campagna 16 interessante e appena disponibile ha il fondotinta vabbè non fa niente e poi vediamo ma perché cosa è vediamo altre cose non disponibili ah niente nient'altro poi l'errata porridge un buono benzina per chi fa inserire una mica e questo è il nuovo catalogo dell'offerta della campagna 1 guardate che carino adesso iniziamo con i prodotti allora in teoria se in color trend acquistavate per 9,90€ vi regalavano una scatolina che io ho già aperto per farvi vedere perché una volta che ho già registrato è così molto carina la conservo un eventuale regalo non si sa mai poi mi hanno ordinato allora un fondotinta nella tonalità Ivory beige è un correttore light un rossetto nella tonalità passion un mascara di spectra lash che è questo è quello con il volume con il tipo volume in teoria l'avevo preso io l'avevo cancellato ma è arrivato lo stesso di color trend mi hanno mandato due matite con questa confezione a stellina la glitterat grey che è da una parte grigia da una parte nera che stavano a 2,50€ questi però non facevano parte dell'offerta quella per la scatolina un eyeliner della linea always of point il Molten Sky in teoria è questo argento poi una matita dell'E3 della Glimmer Stick che è arrivata quella blu la Starry Night blu che è proprio quella più scura vabbè e poi mi è arrivato un fondotinta nella tonalità Caramel che non vi apro è quello 3 in 1 una cipria nella tonalità light di color trend questa per 4,50€ ecco qua c'è la plastichina quindi si può aprire poi mi sono arrivati due balsami della Naturals questi pera e vaniglia poi mi è arrivato un set perché l'ho preso soltanto io in questa campagna il programma fedeltà perché nessuno ha aderito però appena vogliono aderire mi sa che non si può più aderire comunque allora lo stroccante per gli occhi e per il peso è un correttore fair poi mi è arrivata una scatolina con le orecchine poi all'interno c'è un altro sono quelli con la calza natalizia non so se è difetto ma è arrivata appunto così mentre sono questi punti luce quindi non so se è un difetto speriamo di no perché la cliente ci teneva moltissimo se vado a sentire devo andare indietro non penso proprio chi li manda poi mi sono arrivati 4 bubble butt questi piccoli 3 e 4 che stavano 1,95 e 4 di questi mister frost eccoli qui ecco mi sono arrivati i guanti questi cuore da donna che hanno appunto i tre diti per il patch e questi i baffi adesso vi faccio vedere altre due cose ok mi è arrivata la borsa Belen non si riesce a vedere niente qui non posso aprirla neanche mi dispiace questa è questa pasta 16,95 e il pigiama di Minnie come vedete è molto carino e indietro così costa 22,95 adesso vi faccio vedere quelli di campagna 15 ok so tutto qui allora vi faccio vedere delle cose che ho preso in mia madre abbiamo preso tre paia di flip questi questi di qua questi di qua la faccio vedere aperta che tra l'altro sembrano di polistere come vedete questa è la misura quarta quinta è bellissima perché c'è il pizzo quindi molto carina però polistere l'abbiamo preso tre paia di questi di qua così e niente scusate il tendino cioè la tenda non mi smette va bene allora questi sono quelli a cuore e sono anche essi cioè non sono di cotone in teoria sono un polistere cioè tipo tessuto del costume per intenderci però comunque sono molto più carini questi poi mi sono arrivati i tre set di soft mask profumo tacco e spray ne ho tre qui altri due set che tra l'altro poso uno vabbè posso far vedere il profumo soltanto che adesso in campagna 16 questo set sarà 7,95 quindi 9,90 questo set davvero veramente la pena poi con 4,95 mia cugina invece si è presa sto set dove c'è il Senses il gel doccia e una crema per i piedi crema originante da notte è il Deurolon quindi poi hanno preso 4 profumi e allora il Katie Ward hanno preso 4 uno è mio infatti farò un regalo lo devo vendere io perché è un bellissimo un bellissimo profumo cioè fa una promozione veramente spettacolare infatti l'ho consigliata alle clienti ma loro niente infatti soltanto una cliente ne ha presi 3 quindi poi di campagna 15 invece mi hanno ordinato questo set di e di orecchini scusate no erano dal supplemento veramente dolcissime li ha presi dai miei clienti e sono veramente carini veramente un ottimo acquisto si chiamano vert poi mi hanno ordinato allora dei prodotti della campagna 15 sempre però di color trend voglio dire allora 3 sono light medium fondotinta eccoli qui e uno è il medium non è che si 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 vede che è meglio e 4 correttori tutti light se non sbaglio giusto si 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 tutti light poi mi hanno ordinato 2 mascara della super extend tutte e due neri una spazzola questa diciamo per il fun le spazzole della fonda sono veramente belle perché durano negli anni io c'ho spazzole e pettini che veramente assai poi c'è questo set di vetrofanie dove ci sono 6 renne e l'albero di natale che si appendono nei veti poi con cotto le 95 potevate avere un bagno sfumato a bebat la cliente ha preso vaniglia e fico la fumazione è veramente straordinaria e a solo 1 euro poteva avere il o il miss e frosty oppure quello a festività o quello a palla e poi mia madre ha preso di advanced techniques questo shampoo 2 in 1 da il shine adesso vi faccio vedere alcune cose di anteprima che ho preso io ok vi faccio vedere di anteprima campagna 17 cosa ho preso allora ho preso di naturals questo shampoo a vaniglia e pera appunto per questo ho preso i due balsami per appunto utilizzarli con questo poi di avonchiere ho preso il 3 in 1 questo detergente tonicoidratante poi una crema che questa è per la cliente perché lei l'ha presa però non è arrivata quindi hanno l'ho ordinata io in anteprima e una saponetta che questa la troverete a 3,95 di campagna 18 quindi dall'anteprima ho preso un senses che ha al mucchio se non sbaglio è mela bellissimo questi sono di anteprima di campagna 18 poi ho preso questi applicatori per gli ombretti che non si capisce se si può aprire oppure no interessante in teoria venivano a 2,95 quindi vengono consegnati appunto in questa cosa ma questi sono gli applicatori veramente belli poi ho preso un pennellino per eyeliner che tra l'altro non è che mi piace molto non so se lo venderò poi uno spray per il corpo della linea Actration quattro rossetti che tra l'altro non so se aprirò perché non è che mi piacciono molto sono di color trend allora che hanno il design a cuore il passion l'ador forse qualcuno lo prenderò ma non so quale il love e il valentino che è un rosso se non sbaglio comunque questi stanno a 2,50 staranno poi e poi ho preso una collana love molto carina veramente veramente bella e niente poi ci sono tantissimi rampioncini questo è un gel a doccia poi ci sono campioncini a shampoo rossetti e niente questo è il pacco di campagna 16 spero che vi sia piaciuto e al prossimo video ciao e un masso e un masso e un masso